Ci sono anche alcuni veneti tra il gruppo di una ventina di italiani rimasto bloccato nell'isola di Sokotra in Yemen a causa della cancellazione del volo di ritorno che li avrebbe dovuti portare negli Emirati Arabi. Il gruppo era partito da Abu Dhabi con l'unico volo settimanale che porta all'isola, ma a causa della guerra civile in atto non sa più come fare rientro. Il presidente della regione Veneto Zai ha ricevuto notizia da uno dei nostri concittadini veneti ha comunicato di essere in contatto con il Ministero degli Esteri dal quale ha ricevuto rassicurazione sull'attivazione delle procedure del caso. Da quanto si apprende la situazione nella località dell'isola dove si trovano gli italiani è abbastanza tranquilla e probabilmente i connazionali potranno ripartire nei prossimi giorni, forse domenica. Quel che è certo è che la metà scelta dal gruppo di italiani per il viaggio è altamente sconsigliata dal Ministero degli Esteri per i rischi legati al protrarsi del conflitto. Tra l'altro, proprio per la criticità della situazione nello Yemen, l'ambasciata italiana ha sospeso da tempo la propria attività e non è più possibile, avvisa il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri, assicurare assistenza consolare a coloro che, nonostante sia fermamente sconsigliato, decidano di recarsi nello Stato a sud della penisola arabica.